Ecco, partitella in famiglia dei allievi, una partitella in famiglia, il gruppo con la casacca rossa e l'altro gruppo con la maglia gialla. Ecco, qua abbiamo il nostro Matteo Portiere, abbiamo Lele, Karan e Michi, Guido, Enrico, Cristian là in punto, tutti qua, ecco, Bartolo, Amedeo, tutti qua. Ecco, ecco Alessio, 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 Cristian, apertura a Teddy, Teddy con la sua solita galoppata. Galoppata, Michi si è fatto male a un piedino.